Ciao a tutti, iniziamo con Populo e le sue barzellette 2, il ritorno. Gli ospiti qua in studio, Giagi l'aggressivo, Ahmet e il produttore, Elidon. Allora, iniziamo con la prima barzelletta. Un bambino cinese chiede alla mamma, Mamma, chi sono i floci? E la mamma gli risponde, sono persone malate. E il figlio, ma malate glavi? E la madre, sì, inculabili. Iniziamo con la seconda barzelletta. Il dottore ha il paziente, incredibile, lei ha un testicolo di legno e uno di ferro, ma non ha mai avuto problemi? E il paziente risponde, no, ho due figli stupendi, Pinocchio va a scuola e Mazinga l'asilo. Iniziamo con la terza barzelletta. Un signore entra in un edicolo e chiede, Ah, grazie a tempo e mani di fata? Certamente, risponde il giornalaio. Allora, se non le dispiace, dice il signore, me la farebbe una sega? Iniziamo con la quarta barzelletta. Un carabiniere viene ricoverato d'urgenza in un ospedale. Il dottore, dopo averlo accuratamente visitato, gli dice con cautela, Vedi, signore, purtroppo ha subito una paresi progressiva. Pian piano gli si immobilizzerà tutta la parte destra del corpo. Il carabiniere, sconvolto, subito infila la mano sotto le lenzuola e afferrando il cazzo se lo sposta a sinistra. Iniziamo con la quinta barzelletta. Una bella bionda confida l'amica. Il dottore mi ha guarito della mia paura del sesso. Adesso sono io che gli chiedo 100 euro per ogni visita. Iniziamo con la sesta barzelletta. Un pisello incontra un paio di tette. Allora, come va, mie care? A parte che passiamo la vita in un reggiseno, schiacciate, e che qualche volta ci tastano e ci succhiano, non va poi male. Tu? A me va tantino peggio, risponde il pisello. Non capisco, ma a volte il mio boss mi infila un impermeabile, mi sbatte in un ascensore su e giù e su e giù e su e giù, finché sto male e vomito. Iniziamo con la settima barzelletta. Due carabinieri sono a piedi di un albero e stanno discutendo sul sesso della pianta. Ad un certo punto da lì passa un contadino. Allora i due gli chiedono Scusi, secondo lei quest'albero è maschio o femmina? Il contadino gli risponde Beh, considerando i due coglioni sotto, è sicuramente maschio. Iniziamo con l'ottava barzelletta. Due fidanzatini stanno tentando di avere il loro primo rapporto, chiusi in un'automobile. Amore, dice lui, posso accendere la luce? No, ti prego, dice lei imbarazzata. È così romantico farlo al buio. Sì, è sicuramente più romantico, ma con le luci forse la smette di fare su e giù con la leva del cambio. Iniziamo con la nonna barzelletta. Una suora entra gridando nello studio della superiora. Superiora, mi hanno violentata, mi hanno violentata. La superiora preoccupata le fa. Presto corri in cucina e mangia un limone intero. Mi raccomando, prima che ti vedono le altre sorelle. Perché il limone mi ridarrà la verginità? No, ma almeno ti toglierà dal viso quell'espressione di gioia. Iniziamo con la decima e ultima barzelletta per stasera. Un paziente va dal dottore e dice Dottore, dottore, oggi ho fatto la cacca gialla, ieri verde e l'altro ieri rossa. E il dottore gli risponde Ma che cazzo c'hai dentro il culo? Un semaforo? Ma che cazzo 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 cazzo.